Ciao a tutti, sono Luca Ceria, docente nazionale della Federazione Italiana Fitness per quanto riguarda il settore funzionale. L'aggiornamento che vorrei proporre oggi è l'utilizzo e la riscoperta di un attrezzo estremamente semplice, che è il barbell plate o la classica piastra, dove a mio avviso in qualsiasi palestra c'è la possibilità di andarlo a reperire, che possa essere una piastra da disco di pump, una piastra un pochettino più piccola o un disco olimpico, ma sicuramente abbiamo la possibilità di riuscire a trovarlo. Una piccola premessa, l'utilizzo della piastra del disco olimpico per dimensione mi permette di avere sicuramente un'escursione maggiore, sia per quanto riguarda la parte di mobilità articolare che andrò a presentare e sia per il suo ingombro mi andrà a determinare una difficoltà maggiore sull'esecuzione. La struttura del lavoro si dividerà principalmente in due parti, una parte di warm up in cui consiglio l'utilizzo di un disco non troppo pesante, possiamo arrivare comunque tranquillamente anche sui 5-10 kg, per poi andare ad eseguire sulla seconda parte negli esercizi di potenziamento tranquillamente anche una piastra di un peso più alto rispetto al primo. Ok, la prima parte che è la parte di mobilità articolare e di warm up, l'esecuzione sarà i tre quarti in piedi, il resto su una posizione di accosciata. La mia partenza è musteretto, gambe divaricate, piastra parallela al terreno. Contrazione sull'addome, vado a portarmi la piastra sulla spalla sinistra e sulla spalla destra. Mentalmente devo pensare di costruire una lettera.